Ecco la nuova Fiat 128, il coupé Sport. È la carrozzeria che fa vendere molti coupé sportivi. Noi preferiamo invece presentarvi prima le sue prestazioni. Come tutte le 128, il coupé Sport è dotato di trazione anteriore e di sospensioni indipendenti che gli conferiscono una maneggevolezza eccezionale. A freni a disco assistiti sulle quattro ruote. È un motore potenziato che consente una velocità di punta di 160 km orari. Un altro coupé sportivo di tali prestazioni costa molto di più e ciò spiega probabilmente perché molti puntano sulla carrozzeria piuttosto che sulle prestazioni. I coupé Sport Fiat 128, 1100 e 1300 offrono più di una semplice linea sportiva. Ecco.